Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Giungla, in questa versione che vedete qui davanti puramente prototipo, scatola per la stampa, infatti c'è anche il sito Trial Version dietro per farci appunto un video cosa ne penso e una recensione. Gioco da tavolo, edito dalla WoW Games, che io ringrazio di cuore immensamente per avermi contattato e offerto la possibilità di recensire il... che poi alla fin fine il prototipo è praticamente quasi una versione, cioè è un prototipo della Madonna, fatto benissimo, quindi sembra quasi una versione finale, di questo loro gioco, Giungla, di cui il Kickstarter inizierà questo maggio. Quindi comunque poi, più avanti, quando mi verrà dato il link del Kickstarter e della pagina e tutto quanto, la metterò in descrizione al video. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Giungla, questo gioco competitivo, ma come mi piace sempre dire di questa competizione sana e divertente, dove sì, ci sono vincitori e sconfitti, ma è una cosa veramente molto 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 divertente, che ricorda un po' volendo anche una partita a scacchi, quindi ha le sue tattiche precise e particolari, gioco molto interessante della casa editrice WoW Games, come detto a poc'anzi, che raggiungerà il Kickstarter entro brevissimo tempo. Ed è un gioco dove ci sono, ambientato ovviamente nella giungla, come riporta il nome sulla scatola, al titolo del gioco, dove vedremo due eserciti o due schieramenti a combattere. Uno del re della giungla, il leone, che vedete qui davanti rappresentato nella scatola, animali molto umanoidi, ovviamente con le armature, spade, asce e cose del genere, mentre dall'altra parte l'equipaggio della tigre, che è l'antagonista appunto del leone e nelle formazioni varie che troveremo e nei combattenti che potremo andare a schierare in campo ci sarà molta differenza tra un personaggio e l'altro, o per meglio dire tra un archetipo o una classe e l'altra, per mosse particolari che potranno fare nel corso appunto della partita. Ed è un gioco, secondo me è una giusta fusione fra un wargame da una parte e un wargame dall'altra, ma ricordano un po' le meccaniche quelle, come vi ho detto, degli scacchi. Quindi, secondo me è un gioco per tutti che farà divertire molti. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, molto semplice, ci sta che non sia nemmeno quella alla fin fine definitiva, e vediamo anche il font, mi piace, molto molto carino, e qui i due schieramenti che si combattono, quello del re leone e da quest'altra parte la furente tigre, ed è un gioco, come vi ho detto, molto veloce e che, come vedrete poi a breve dopo l'unboxing, si spiega veramente, le cose da tenere in mente sono pochissime. Bellino, mi piace anche il tipo di disegno. Apriamo. Regolamento, fatto bello grande a striscetta. Come vedete, mi ero messo, no, paura, sono abbastanza rodato su queste cose, però tante cose, ho detto, ma per un gioco così con gli animali, mi sembra ci siano un po' troppi simboli, concezioni, ragazzi, è il gioco più facile del mondo, e ci sono tante cose perché vi spiega le cose nella maniera migliore possibile, ottimale, anche secondo me, e sono chiare. Cioè, una volta spiegate ti rimangono in testa e poi, come vedete, ogni animale ha la sua pagina con la sua abilità e gli esempi di movimento. Quindi, sembrano tante, ma sono veramente pochissime le regole di questo gioco ed è molto, molto, molto veloce. Queste sono le creature che ci sono dentro. Ripeto, tutto quello che vedete è puramente, qui sono bustine per conservare, un sacchettino anche, puramente, puramente, puramente a livello di prototipo, token, segnapunti, Marco Casini e Lorenzo Ghignone, che sono i creatori del gioco, che tra l'altro ci ringraziano con una letterina e tutto quanto, e vi ricordo, appunto, come detto, che ci sono, mi sembra di averlo detto poc'anzi, che ci sono gli standi al posto delle miniature. Io penso, e è una congettura mia, è un pensiero mio, io penso che ci saranno anche le miniature come possibile stretch goal del Kickstarter. Comunque, inizialmente, sono tutte quante fatte così sul cartoncino, che vanno a rappresentare i vari animali del nostro esercito, che potremo schierare sul campo. Colore blu per la tigre e colore rosso, se non ricordo male, tra l'altro l'hanno fatto fronte e retro per il leone. E la mappa, eccola qua giù, la mappa di gioco, divisa in esagoni, che ora poi vi faccio vedere aperta, con le zone d'acqua e le zone di terra. E poi, nella scatola del gioco, ci hanno messo anche delle mascherine diversificate per le due squadre in periodo Covid, che tra l'altro sono molto belline e fanno molto comodo. Veramente, veramente un bel pensiero. Adesso sono pronto a giocare, schierato ovviamente dalla parte del re della giungla. Come dicevo, appunto, quello che avete visto anche in fase di unboxing, è soltanto la versione prototipo del gioco. Le regole sono molto semplici. Partiamo da uno schieramento, una mappa che ha delle zone di terra e delle zone d'acqua, perché ovviamente alcune creature, e mi viene in mente ad esempio l'ippopotamo, oppure anche predatori, come la tigre, il leone, il puma, si muovono meglio sulla terra e vanno a sfruttare il loro movimento completo a terra, mentre in acqua si muoveranno più lenti, tipo un leone e una tigre. Magari il movimento di terra si potrebbero muovere di tre o quattro caselle, in acqua si muoveranno soltanto di uno. Però ci sono anche creature acquatiche. Ad esempio, i serpenti, per fare un esempio, vanno bene sia in terra che in acqua, ma soprattutto, prendendo l'esempio più eclatante, il coccodrillo si muove molto più velocemente in acqua che non in terra. Quindi la mappa è divisa sempre in caselle di terra e in caselle d'acqua che voi dovete andare a identificare per il giusto spostamento. E la cosa bella è che ci sono tanti tipi di unità, di truppe, tra virgolette. Ad esempio, ci sono quelli veloci a muoversi, però che vanno magari, come riporta la carta, in una sola direzione, oppure ci sono anche altre creature che possono, altri animali che possono saltare addirittura. Quindi non solo possono fare uno spostamento nelle direzioni riportate sulla carta, che potrebbe essere a dritto, oppure si potrebbero muovere a L, per quello vi ho detto che ricorda un po' a T, che ricorda un pochino anche gli scacchi, oppure si potrebbero muovere in avanti o indietro, oppure in avanti in diagonale sinistra, oppure in avanti in diagonale destra, oppure in tutte le direzioni. E ci sono varie regole che, ad esempio, alcuni sono più lenti, ma non possono essere catturati, perché lo scopo del gioco è quello di muoversi per entrare nella fase di schieramento, chiamata comunque caccia, dell'avversario, e portare le miniature. Ogni nostra miniatura che riesce ad arrivare lassù in cima guadagna un punto, ma ovviamente andandoci incontro dall'altra parte del tavolo si trovano le truppe dell'altro giocatore, e quando muovete la vostra miniatura e va in contatto con un'altra, quella presa è catturata. Quindi andandovi a scontrare contro un altro, di solito lo andate a catturare, e poi ci sono regole particolari di alcuni animali che non potete catturare, quindi magari perché sono troppo pesanti o ci hanno regole particolari, tipo ad esempio la tartaruga. La tartaruga si muove in tutte le direzioni ma è lenta solo di uno, e non può essere catturata, però quando arriva a marcare un punto non ne fa uno ma ne fa due, perché ovviamente ci mette più tempo ad arrivare, una volta che arriva siamo tutti contenti, sennò sarebbe anche inutile. E lo scopo del gioco è questo qui, creature catturate che poi dopo vanno nelle gabbie dell'avversario, ma è anche possibile fare un'azione per andare verso, non assegnare punto, ma andare verso le gabbie avversarie per liberarle. Quindi alla fin fine è un gioco d'attacco e difesa perché c'è da vedere i movimenti che potete fare, magari come ho detto una creatura veloce o un predatore si muove molto meglio in terra che in acqua. È inutile far muovere una tigre o una creatura molto veloce di terra in acqua, perché sì, provate ad aggirare e andare a segnare punto, però dovete stare anche attenti che le truppe dell'avversario non vengano a segnare punto nella vostra caccia. Quindi è tutto fare le mosse giuste nel momento giusto, bloccare quelle dell'avversario o perlomeno rallentarle e andare a prendere la sua base, anche perché è un gioco, come ho detto, competitivo e vince chi fa più punte alla fin fine o anche la disfatta totale, perché se qualcuno non ha più truppe in campo c'è una disfatta totale. E ogni singola unità che è andata a muovere ha un'abilità speciale, magari quello ha il salto, quello non può essere catturato, quello magari quando ti colpisce ti respinge, ognuno ha le sue abilità e ovviamente i due comandanti dell'esercito, che sono il leone da una parte e la tigre da quell'altro, sono i generali in campo e sono anche le truppe più forti che potete avere ed è bellino perché inizialmente partano senza equipaggiamento, ma poi ad esempio il re della giungla e il leone può avere l'armatura e la spada più avanti, quindi c'è anche la possibilità di esaltarli, mi viene in mente Underworlds di Warhammer, e è molto bellino. Voi dovete vedere semplicemente come si muove la vostra truppa e pensare magari a quale muovere per arrivare alla base o intercettare le truppe avversarie. In conclusione è un gioco veloce, è un gioco fresco, è un gioco dove uno all'inizio prende il regolamento, c'è un po' di pagine, fai oddio quante cose c'ho da mettere in testa, è veramente facilissimo, sono tante pagine perché ti fa vedere anche ogni pagina, magari c'è anche caratteristica di movimento di quella truppa, di quell'unità, caratteristica di l'abilità speciale, scusate, e quant'altro. Quindi sembrano un po' di pagine, ma le cose da assimilare sono veramente pochissime. È il classico regolamento che basta una lettura e siamo pronti per giocare. Quello che vedete, ribadisco ancora una volta, è un prototipo. E comunque appena sarà disponibile, magari ripassate in questo video, vi lascio il link in descrizione alla pagina Kickstarter, da cui sarà possibile appunto ordinarlo. Un gioco quindi a portata veramente di tutti, un gioco dove farete divertire chiunque, e poi un gioco anche, consentitemelo, educativo, perché comunque è bellino anche per dei bambini, fai vedere, sì, il tema è il combattimento, la battaglia, vincere sull'avversario, catturare, però c'è alla fin fine con gli animali, quindi alla fin fine è anche una cosa educativa che non fa paura, ecco, diciamo, non è un contenuto violente e cose del genere. Secondo me, dove lo mettete? Lo mettete e farete divertire. Io ringrazio ancora una volta la WoW Games per avermi offerto questo prototipo, ho apprezzato veramente molto, grazie veramente di cuore per aver creduto in me e avermi dato questa possibilità e ragazzi, magari non lo troverete subito, comunque voi controllate, nel caso intro maggio, cose del genere, primi di maggio, che partirà il Kickstarter e vi lascio comodamente il primo link in descrizione. Ciao ragazzi, alla prossima!